uomini e poi atleti, con re e reali in campo. Applicare queste due qualità in ambito calcistico non è sempre facile, ma tu ci hai impresso queste due dosi della mente, facendoci capire che sono fondamentali, non solo nel calcio, ma anche nella vita di tutti i giorni. E se ben ci applicate, ci rendono persone migliori in pace con noi stessi. Un singolo ringraziamento va al nostro allenatore Gabriele, che in questi due anni ha saputo in fondo i suoi valori della vita e il suo profondo amore per questo sport, dandoci la convinzione che volontà, sacrificio e determinazione conducono prima o poi al successo. Negli allenamenti eri il primo ragazzo di questo gruppo, hai sofferto con noi, sudato, preso freddo nei geni di periodi invernali. Abbiamo riso, gioito e pianto insieme. Mr. Gabriele, noi, i tuoi ragazzi, abbiamo firmato con te un patto d'onore. E così penseremo! Non ti lasceremo mai, ci ritroveremo a fine agosto, condi per una nuova avventura sotto i colori giallocosti per vincere e continuare questa meravigliosa avventura iniziata due anni fa. Grazie Mr. Gabriele, grazie Virtus Castelfrentano, i tuoi ragazzi. Sono semplicemente meravigliosi, sono orgogliosi di allenare questi ragazzi. È il mio cuore! Grandi! Nostro mister! Sì, sì, sì. Oh, 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 Michele Cioccolatini. Bastanti. Ci vuole un mese di allenamento per spursi e far funzionare il telefono. Basta. Perché il mister, c'è il telefono rotto. Ehi, molto. Senza la vita. Senza la vita. Ma rompa cuore questo. Eh, ma rompa cuore questo. Vi ringrazio di cuore.